La Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, ha convocato per lunedì prossimo, 13 maggio alle ore 11, la prima riunione dell'undicesima legislatura del neoeletto Consiglio regionale. All'ordine del giorno, dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza provvisorio, è previsto il giuramento da parte dei consiglieri, che hanno facoltà di ripeterlo anche in una delle lingue dei gruppi linguistici del Friuli Venezia Giulia, friulano, sloveno, tedesco. A seguire le votazioni per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale, dei due vicepresidenti e dei quattro segretari.